Terminata la sua avventura nel grande fratello VIP, Edoardo Donnamaria fa un ritorno sorprendente al programma Forum. L'ex concorrente del reality show di Canale 5 era stato squalificato poco prima della finale a causa di comportamenti verbali aggressivi che avevano suscitato l'indignazione del pubblico e degli autori. Nell'episodio dell'11 settembre è stata la conduttrice Barbara Palombelli a dare il benvenuto a Edoardo con un tocco di ironia. Ecco chi è tornato, il nostro figlio al prodigo, Edoardo. Meno male, altrimenti il numero delle donne qui sarebbe stato troppo alto. Un commento che sottolineava l'equilibrio di genere tra gli opinionisti presenti in studio. La sua riapparizione nel programma ha catturato l'attenzione degli spettatori, creando aspettative e curiosità su come si sarebbe comportato dopo l'esperienza turbolenta nel grande fratello VIP. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante, grazie, ci vediamo nel prossimo video.